Ok, continuiamo allo studio del campo magnetico e affrontiamo oggi un concetto fondamentale che abbiamo già visto per il campo elettrico, ma stavolta lo applichiamo al caso del campo magnetico. La circuitazione, cosa si intende per circuitazione? La circuitazione è un oggetto matematico e formalmente è l'analogo, nel campo elettrico mi sto riferendo, l'analogo del lavoro per unità di carica per un percorso chiuso. Nel caso del campo elettrostatico abbiamo visto che se noi abbiamo una carica che cambia posizione, che si sposta all'interno di un campo elettrostatico, attenzione la parola elettrostatico qui gioca un ruolo fondamentale, c'è un campo che non dipende dal tempo ma solo dalla posizione, all'interno di questo campo il lavoro svolto dalle forze del campo sulla carica, mentre questa si sposta da un punto a un altro, dipende esclusivamente dalle posizioni iniziali e finali del percorso, non dalle posizioni intermedie, per altri termini dal percorso, non da come va da A a B ma solo da dove sta A e dove sta B e ovviamente anche dalla carica. Un altro modo di dire la stessa cosa è che se il percorso fosse chiuso, la circuitazione del campo elettrostatico sarebbe zero, cioè il lavoro svolto dalle forze del campo per unità di carica sulla carica stessa darebbe un totale di zero, a fatto che il percorso sia chiuso, a fatto che il campo sia elettrostatico, cioè indipendente dal tempo. Quello che suggerirà nel caso di un campo dipendente dal tempo, cioè un campo elettrodinamico, lo vedremo prossimamente su questi schermi. Una delle caratteristiche dominanti nel caso del campo elettrostatico che ne dà la natura conservativa è il valore nullo della circuitazione del campo elettrostatico, che è quello che ci permette di dire esiste l'energia potenziale e con tutte le conseguenze del caso. Che cosa succede se applichiamo la stessa cosa al campo elettrico, scusatemi, lo ripeto, qui il percorso è racchiuso, il campo elettrico dà a questa caratteristica. Il lavoro per spostare la carica da un punto allo stesso punto, quindi i punti iniziali e finali coincidono da un totale di zero. Abbiamo visto a suo tempo il perché. Questo ente fisico, il lavoro, possiamo formalizzarlo con un suo tempo in meccanico che abbiamo definito che il lavoro che una forza svolge per spostare un oggetto da un punto a un altro, vale il prodotto scalare tra forza e spostamento. Qui generalizziamo il concetto in che modo? Beh, se durante lo spostamento la forza non dipende dalla posizione, è facile calcolarlo. Forza per spostamento mi dà il lavoro festa finita. Ma se durante lo spostamento la forza cambia, cioè se ho un campo elettrico non omogeneo, allora non posso più fare una banale moltiplicazione scalare tra forza e spostamento, perché la forza non so quant'è, perché nel corso dello spostamento questa cambia. Allora cosa si fa? Si passa a una formulazione differenziale del tutto. Cioè si dice, ok, frammentiamo il percorso in tanti piccoli tratti di infinitesimi, che sono caratterizzati da uno spostamento infinitesimo di R, che è un vettore, in modo tale che all'interno di questo spostamento infinitesimo la forza sia considerabile costante, cioè non cambi di tanto. Dopodiché sommo quindi tutti questi lavori elementari o infinitesimi del campo E1 lungo il tratto di R1, il campo E2 lungo il tratto di R2 e via dicendo, sommando quindi infiniti termini infinitesimi, al limite in cui il numero dei frammenti di tratto tende a infinito, ho una somma di infiniti termini infinitesimi, una somma di differenziali, che mi dà una quantità finita. Questa particolare S allungata è un integrale definito, cioè una somma di infiniti termini infinitesimi, che mi immagino che nel corso di matematica vedrete a breve, non so se l'avete ancora vista, di solito se va decisamente nella seconda metà dell'anno, ma sappiate che questo simbolo indica questo particolare tipo di somma, quindi questo simbolo indica il punto di partenza, questo simbolo indica il punto di finale del percorso e questo è un differenziale calcolato in funzione di quella che è la variabile indipendente, che quindi in questo caso è la posizione. Se il percorso è chiuso, quindi se il punto di partenza e il punto di arrivo coincidono, quindi questo integrale di linea, questo punto si chiama, la natura fisica del campo elettrostatico ci dice, guarda che questa somma di infiniti termini infinitesimi, quindi il lavoro lungo il percorso chiuso è 0. Questo particolare concetto matematico prende il nome di circuitazione. Che cos'è la circuitazione? La circuitazione è il calcolo di una particolare grandezza fisica calcolata sommando infiniti termini infinitesimi, per il motivo che ho appena detto, lungo un percorso chiuso. Nel caso del campo elettrico la circuitazione che prende questo simbolo gamma, questa è una lettera greca maiuscola, suona come la G, lungo il percorso chiuso C del campo elettrico E, qui ci andava il vettore sopra, mi ho dimenticato di metterlo, è l'integrale lungo un percorso chiuso del prodotto scalare tra campo e spostamento, lo spostamento infinitesimo lungo questo percorso. Quindi questo immaginate di, torniamo un attimo indietro se preferite, un percorso chiuso di qualsiasi tipo, qui è in tratti radiali e tangenziali perché è più semplice, ma in realtà potrebbe essere un percorso chiuso qualsiasi e lo spostamento è tale che lungo quegli spostamenti infinitesimi di R il campo elettrico E posso approssimarlo come costante, in realtà questo anche se uso il termine di approssimazione è un calcolo esatto, d'accordo? Questa è la potenza dell'analisi tutto sommato, a patto che questi siano infiniti termini infinitesimi, al limite in cui questo in realtà l'integrale come la derivata è un limite, è un particolare limite, che poi la relazione tra integrazione e derivazione la vedrete sicuramente a breve nel corso di matematica. Che cosa succede nel caso del campo elettrostatico? Abbiamo visto che la circuitazione è zero. Che succede nel caso del campo magnetico? Meglio, nel caso del campo magnetostatico per adesso, d'accordo? Beh prendiamo un caso semplice che abbiamo visto diverse volte nelle azioni precedenti, il caso del campo magnetico prodotto dalla corrente che percorre, una corrente costante, che percorre un filo rettilineo trascurando gli effetti ai bordi, quindi idealmente infinito, questa produce linee di campo, di campo magnetico che sono delle circonferenze, che stanno su un piano e sono concentriche al punto in cui il piano del campo interseca il filo. L'intensità del campo magnetico, orientato sempre con la mano destra, metto il pollice lungo la corrente, le dita danno il verso all'orientazione delle linee di campo, l'intensità del campo è proporzionale alla corrente che passa nel filo, direttamente proporzionale, è inversamente proporzionale alla distanza R, che vedete qua sotto, dalla retta che rappresenta il filo percorso da corrente. Detto questo, è abbastanza semplice intuire che calcolerò la circuitazione lungo percorsi che sono orientati come le linee di campo, quindi se immaginate che abbiamo il nostro filo, di prendere uno spostamento che sia in ogni punto tangenziale la linea di campo, allora il campo magnetico B e lo spostamento di R sono vettori paralleli, quindi prenderò la somma A e B in ogni caso a parità di distanza, quindi lungo la linea di forza, l'intensità del campo magnetico non cambia, perché se R è costante, B è costante a parità di B, quindi lungo tutta questa circonferenza, che è di raggio R, l'intensità del campo sarà Mizzaro su 2pi greco i fratto R. Sommando infiniti spostamenti infinitesimi, qui tutto sommato la vita è semplice, perché? Perché essendo che B non cambia, mi è sufficiente moltiplicare il valore costante di B per la lunghezza del percorso, perché se sono infiniti tratti di una circonferenza ho sempre 2pi greco R, quindi la circuitazione non è altro che il valore del campo a quella distanza dal centro, quindi a distanza R dal filo del percorso da corrente, per la lunghezza del percorso 2pi greco R. I 2R si semplificano e anche i 2pi grechi, ecco perché nell'espressione del campo magnetico si mette questo 2pi greco qua sotto, perché poi va via, si semplifica, si va anche a non mettere, ma in quel caso si ritrova un 2pi greco qua, è una comodità tra virgolette formale. Di conseguenza che cosa abbiamo ottenuto? Beh, siccome la linea di campo magnetico è un percorso chiuso e orientato, molto diversamente da quello che succede nel campo elettrico, la circuitazione del campo magnetico in generale non è 0, ma vale Mi 0, se siamo nel vuoto, quindi la permeabilità magnetica nel vuoto, per la corrente I. Attenzione quale corrente I? Qui che ruolo gioca questa corrente? La corrente I si dice, si chiama corrente concatenata al percorso. Qui stiamo integrando il campo lungo una linea di campo, ok? Lungo una circonferenza. Quindi ho un percorso chiuso, d'accordo? Qui l'R si semplifica, d'accordo? Ma la corrente I che figura a destra della circuitazione è la corrente che ha questo significato. immaginate una superficie che abbia il mio percorso di integrazione come bordo, quindi in questo caso un cerchio, ok? La corrente I concatenata al percorso è la corrente che perfora questo percorso, questa superficie. Quindi la corrente netta che attraversa la superficie che ha il percorso come bordo, quella e quella concatenata. Vediamo se poi, ecco qui, perfetto. Qui se prendo il campo magnetico lungo questo percorso, d'accordo? E la corrente I che attraversa questo, che attraversa il, quindi al centro di questa circonferenza, ottengo la stessa circuitazione di quella che otterrei lungo un percorso di questo tipo. Perché? Perché la corrente concatenata è la stessa. E di fatto, non è difficile dimostrarlo, ma ahimè richiede teoremi sull'integrazione che per adesso è meglio non mettere in campo, l'integrazione che mi porta al calcolo della circuitazione, d'accordo? Non dipende anche qui da quale scelta faccio sul percorso, ma solo dalla corrente concatenata, cioè dal fatto che ci sia o meno e quanto vale la corrente che attraversa la sezione che ha il percorso di integrazione come bordo. Quindi se io prendo questo percorso M, questo qui in giallino, la circuitazione sarà mi zero volte I. Se invece prendo questo, qui avete la figura B a fianco, prendo questo percorso, qui la circuitazione mi dà un valore di zero. Perché? Perché questo percorso non ha nessuna corrente concatenata, la corrente concatenata è fuori del percorso, cioè questa corrente non buca questa superficie, ne buca un'altra. Io cerco di usare termini semplici per farmi capire, anche se in realtà non è molto tecnico questo, ecco. Il concetto di corrente concatenata ha questo senso. Se sono in una zona dove c'è un campo magnetico, costruisco un percorso chiuso, tutto sommato indipendentemente da che formato, basta che sia chiuso. Immagino una superficie che abbia quel percorso come contorno e mi chiedo, questa superficie è attraversata da una corrente? Se sì, allora la circuitazione dà un valore che sarà mi zero volte la corrente concatenata. Attenzione, se le correnti sono più di una, alcune possono contribuire con un segno positivo, altre con un segno negativo. Come mi regolo? Sempre con la regola della mano destra. Ok? Tra un attimo lo vediamo. Eccolo qua. Ci sono domande su questa figura, è chiaro qual è il significato? La circuitazione del campo, questo si chiama legge di Ampere, Andre Maria Ampere si è occupato a lungo del campo magnetico, è degli effetti magnetici della corrente. La gamma C significa circuitazione del campo B lungo il percorso chiuso C. Questa grandezza, che ripeto è un integrale di linea chiusa, vale mi zero, costante permeabilità magnetica nel vuoto, se sono nel vuoto, per la corrente concatenata al circuito. Che significa corrente concatenata al circuito? La corrente elettrica che attraversa la superficie che ha come bordo il circuito. È chiaro? Che succede se ho più correnti? Ho focalizzata la figura A, questa in alto a sinistra. Qui abbiamo un percorso in arancione, d'accordo? E qui abbiamo quattro correnti che attraversano il circuito. La prima di 2 Ampere entra dall'alto verso il basso e quindi se io prendo la regola della mano destra, ok, che va quindi in senso in questo caso anti-orario, il verso positivo è quello verso l'alto. Quindi metto le dita nel senso di integrazione, cioè nel senso in cui percorro il percorso chiuso, questa tratteggio arancione, e il pollice mi dice qual è il verso che devo considerare come positivo. Quindi saranno positive la corrente di 3 Ampere, la corrente di 4 Ampere, ma sono negative la corrente di 5 e di 2 Ampere. Quindi nella circuitazione avrò mi zero per 3 più 4, ma meno 5 e meno 2 Ampere. Quindi qui in totale ho zero, la corrente concatenata è nulla, perché alcune correnti danno un contributo positivo, altre un contributo negativo, perché alcune escono dalla superficie, altre ci entrano. E del segno devo tener conto nella circuitazione, d'accordo? Nel caso della figura B, che è ancora un po' più semplice, abbiamo la corrente di 5 Ampere, in realtà come vedete non è neanche necessario che il filo sia rettilineo, basta che attraversi il percorso. La corrente di 5 Ampere e di 4 sono fuori del mio percorso di integrazione, cioè non lo forano per dirla proprio che più terra a terra non si può. Quindi queste le ignoro. La corrente concatenata è quella di 2 Ampere, ok? E siccome qui giro nel senso inverso al precedente, qui giro nel senso orario, quindi il mio pollice va verso il basso, il verso in cui si presenta la corrente di 2 Ampere è un verso positivo, per cui se integro, oppure se sommo il B scalare di R in questo senso, il totale sarà di più 2 Ampere. Ok? Questa corrente contribuisce nel senso positivo, se io prendo quello positivo verso il basso. Infine caso C, qui ho un percorso di integrazione analogo al precedente, il 7 che è entrante è un verso positivo, il 5 che è entrante è un verso positivo, ma il 3 che è uscente sarà un verso negativo, quindi sarà più 7 più 5 meno 3 Ampere. E quindi sommo algebricamente, con il loro segno, a seconda della regola della mano destra, le diverse correnti che attraversano la superficie che ha quel percorso di integrazione come bordo. Attenzione perché legare la circuitazione al verso della corrente e a quale bordo sto considerando è importante. Soprattutto quando parleremo di 4D Maxwell, attenzione, e di forze elettromotrici in dolce. Ok? Fin qui. Bene. La legge di Ampere sulla circuitazione è molto utile perché può essere applicata per determinare i campi magnetici in situazioni tutto sommato non elementari. Un tipico esempio è questo. Abbiamo visto che una spira, fatemi tornare un secondo indietro fino a dove eravamo con la spira. Eccola qua. Il campo magnetico prodotto da una spira ha una forma di questo tipo, piuttosto complessa. Abbiamo visto qual è l'espressione del campo magnetico al centro della spira. Immaginate di prendere un filo metallico dove passa corrente e di avvolgerlo lungo una struttura cilindrica. Quello che ottenete è questo oggetto che prende il nome di solenoide. Cos'è un solenoide? Un solenoide è un avvolgimento di filo metallico atto a portare corrente, a trasportare corrente, avvolto in modo tale da formare un cilindro, quindi che ha un asse di simmetria, quindi dove la sezione è un cerchio che ha sempre le stesse dimensioni. Questa particolare struttura, questo particolare tipo di avvolgimento si chiama solenoide. E' chiaro che il solenoide equivale a tante spire magnetiche, spire di percorso da corrente affiancate l'una all'altra. Immaginate di avere N avvolgimenti, N maiuscolo avvolgimenti lungo un tratto L grande che è la lunghezza del solenoide stessa. Quello che di fatto si verifica è che possiamo andare per esempio a graficare o a sondare la struttura del campo magnetico all'interno del solenoide avremo un campo magnetico abbastanza approssimativamente come vedete nella figura qui sotto, questo è un disegno, questa è una foto reale, un campo approssimativamente omogeneo, cioè all'interno del solenoide le linee di campo magnetico sono rette parallele ed equidistanziate. Qui nel disegno si fa vedere che in realtà questa sfumazione non è proprio ideale, perché? Perché ci sono gli effetti ai bordi, immaginate un campo magnetico molto lungo e con spire molto dense l'una vicino all'altra, questa situazione è ben approssimata da un campo magnetico omogeneo, che ricorda quello di un magneto naturale. Ecco perché si dice, dato il parallelismo, c'è motivo di ritenere che anche all'interno di un magneto naturale, cioè di una calamita, le linee di campo magnetico continuano, perché? Perché è esattamente quello che fanno nel caso del solenoide, che è un, se mi concedete il termine, è una elettro calamita, cioè una calamita prodotta per effetti elettrici. Come facciamo a calcolare quant'è il valore del campo magnetico all'interno del nostro solenoide e utilizziamo la legge di Ampere. Qui vedete il solenoide in sezione, qui abbiamo la parte superiore delle spire, qui la parte inferiore, in questo punto le linee magnetiche del campo magnetico entrano nella figura, in questo punto escono, quindi dall'orientazione sempre legge della mano a destra, il verso del campo magnetico è da destra verso sinistra, vedete le frecce blu indicano il campo magnetico e sono rette orizzontali, quindi è un campo idealmente omogeneo, omogeneo cosa significa? In fisica omogeneo è tutto ciò che non dipende dalla posizione, quindi qui ho un campo magnetico, ripeto, omogeneo, fatto di, graficato da linee di forza che sono rette parallele orientate verso sinistra, ok? E quindi posso utilizzare la legge di Ampere e calcolare la circuitazione del campo magnetico lungo un percorso chiuso che sarà un rettangolo per semplicità, dove c'è il tratto 1 immerso all'interno del solenoide, quindi immerso nel campo magnetico, i tratti 2 e 4 perpendicolari al solenoide, uno a uscire, e uno a entrare, è il tratto 3 orizzontale ma all'esterno del solenoide. Idealmente se il solenoide fosse con le spire sufficientemente dense e infinitamente lungo, queste linee di forza non hanno modo di uscire, cioè rimangono, nel caso ideale, rette parallele ed equiverse, quindi all'esterno del solenoide il campo magnetico è nullo, lo campo magnetico solo dentro. Quindi la circuitazione, ok? Cioè l'integrale di percorso chiuso di campo magnetico per spostamento all'esterno da un totale di 0, perché qui il campo magnetico è nullo, sia lungo il tratto 3, tutto il 3, sia nelle parti del tratto 2 e 4 esterne al solenoide. Nella parte interna, lungo il tratto 1, quindi lungo il lato orizzontale del nostro percorso, che è di lunghezza L, il prodotto scalare campo per spostamento mi dà B, l'intensità del campo, per in questo caso B piccolo, che è la lunghezza del nostro tratto di integrazione. Mentre i due tratti 2 e 4, la parte del tratto 2 e del tratto 4 anche all'interno del campo, siccome il percorso, quindi il lato 2 e il lato 4 sono perpendicolari al campo, il prodotto scalare sarà 0. Morale della favola, la circuitazione sarà uguale a B, lunghezza del mio rettangolo, per il campo magnetico all'interno del solenoide, mentre la parte esterna non mi dà circuitazione, non contribuisce alla circuitazione. Quindi la circuitazione vale B volte B. Io potevo usare una L forse perché B, due volte B insomma stono, ma magari lo cambierò dopo. Giocandomi la carta a leggi di Ampere posso dire che questa circuitazione vale che cosa? Mi 0 per la corrente concatenata. Ma qual è la corrente concatenata? Beh, sarà il numero delle volte che le spire attraversano questa parte. Quindi sarà il numero totale delle spire diviso per la lunghezza totale del solenoide ma moltiplicata per questo tratto B. Perché se ho, metti 100 spire su un metro, in 10 centimetri avrò 10 spire. Ok? Quindi prendo il numero totale delle spire, divido per la lunghezza totale del solenoide e moltiplico per il tratto di rettangolo immerso nel mio campo magnetico, quindi per la lunghezza del rettangolo. Per cui in base alla legge di Ampere avrò che la circuitazione magnetica, cioè B volte B grande, sarà N su L di nuovo B piccolo per Mi 0i. I due B piccolo vanno via come naturale che sia, cioè non dipende dalle dimensioni del mio rettangolo e rimane il risultato che il valore dell'intensità del campo magnetico all'interno del solenoide vale permeabilità magnetica nel vuoto, attenzione se nel solenoide c'è il vuoto, per la densità di avvolgimenti, quindi quanti avvolgimenti diviso la lunghezza del solenoide per la corrente che attraversa ciascuna spira. Il risultato importante annesso a questo è il fatto che B, come vedete, non dipende dalla posizione basta che sia all'interno del solenoide, non dipende da quanto sono vicino al bordo o da quanto sono vicino al centro, è lo stesso dappertutto. Morale della favola, utilizzando la legge di Ampere sulla circuitazione del campo magnetico, siamo in grado di calcolare, meglio di prevedere, qual è l'intensità di un solenoide ideale formato da N spire, che è il solenoide abbia lunghezza L e che si è percorso da corrente I. Questo campo è un campo omogeneo, quindi che non dipende dalla posizione all'interno del solenoide, formato quindi da linee di campo che sono rette parallele, la cui orientazione è coerente con la convenzione della regola della mano destra, e la cui intensità vale la permeabilità magnetica nel vuoto Mi0, 4π per 10 alla meno 7, eccetera, eccetera, per la densità di linee di avvolgimenti, numero di spire diviso la lunghezza del solenoide, per la corrente che passa in ciascuna spire. Un'altra situazione analoga è quella in cui anziché avere una struttura cilindrica, gli avvolgimenti hanno una struttura a toro, si dice, cioè un cilindro chiuso, chiuso su se stesso. Questa particolare figura geometrica prende il nome di toro. Quindi ho N avvolgimenti distribuiti su una circonferenza che ha un raggio R rispetto a un centro che è il punto O. In questo caso, l'ideale è calcolare la circuitazione lungo un percorso che sia una circonferenza concentrica O. Anche qui, se utilizziamo la regola della mano destra, avremo che se in questo punto, immaginatevi che questo dà la sezione del nostro toro, in questo punto le linee di campo entrano, in questo punto escono, quindi il percorso di integrazione è un percorso di questo tipo, cioè in questo caso ha una percorrenza di tipo anti-oraria, quindi integriamo in senso anti-orario e la circuitazione sarà Mi0 per I, quale I? Beh, I sono le correnti, in questo caso se prendiamo la circuitazione dentro la zona del toro sarà la N volte, se sono N spire, la corrente che passa in ciascuna spire. D'accordo? E qual è il valore del scalare di B per la lunghezza del percorso? Beh, qui è chiaro che la circonferenza ha valori, ha lunghezze diverse, ma a seconda di quanto lontano sono dal centro, di conseguenza avrò il campo magnetico B sarà omogenea, perché dipenderà solo dalla distanza dal centro, il percorso ha una lunghezza che è 2πr, dove R è grande e la distanza da O, quindi questa somma di questi prodotti scalari infinitesimi mi darà B per 2πr, che sarà uguale, legge di Ampere, Mi0 per tutte le correnti con catenate, che sono N, se N sono le spire, per i correnti di ciascuna spira. Qui diversamente dal caso del solinoide, il campo magnetico interno al toro non è omogeneo, perché per i cavari a B devo dividere per 2πr e ottengo che il campo magnetico all'interno di questa struttura toroidale sarà Mi0, numero degli avvolgimenti, per la corrente che passa in ciascun d'avvolgimento, diviso 2πr, quindi se vado lontano dal centro O, il campo è più debole, ok? Quindi questo è un buon sistema per produrre un campo magnetico combinato, cioè una particolare regione dello spazio, ma non per produrre un campo omogeneo, perché al punto di campo omogeneo l'ideale è il solinoide. D'accordo? Mi preme che vi sia chiaro come si gioca la carta legge di Ampere. È un po' come la legge di Gauss per il campo magnetico e per il campo elettrico. Tante volte si usa la legge di Gauss per trovare il campo elettrico in situazioni in cui la distribuzione della carica ha particolari simmetrie. Qui è uguale, utilizziamo la legge di Ampere per trovare il campo magnetico in situazioni in cui il calcolo dell'integrale di linea, quindi della circuitazione, è tra virgolette più semplice e quindi deriviamo a posteriori qual è la dipendenza del campo magnetico dalla posizione nel caso ad esempio del solinoide che abbiamo appena fatto, oppure di questo particolare tipo di struttura. Tutto chiaro? Molto bene. Qui ritorniamo a vedere l'analogia tra il magnete naturale e il magnete artificiale o elettromagnete se preferite e quindi dall'analogia delle linee di campo nella zona esterna all'elettromagnete e la calamita, uno deduce che probabilmente anche all'interno, è ragionevole ritenere che anche all'interno della calamita le linee di campo magnetico si mantengano, cioè seguono la stessa storia, cioè si chiudono all'interno del magnete naturale, quindi che non si interrompano ai due poli. Anche perché se si interrompessero ai due poli, tagliando il magnete in due dovrei avere dei poli isolati, mentre abbiamo già visto che così non è. Tagliando l'indue non faccio altro che mettere in evidenza il fatto che all'interno le linee di campo comunque ci sono e sono chiuse. Quindi cosa ne diciamo? Se in base a questa analogia probabilmente anche nel caso del magnete naturale il fenomeno elementare che produce l'effetto magnetico è simile o lo stesso di quello che produce il magnete artificiale, cioè l'elettromagnete. Quindi sono cariche in moto microscopiche in moto, la causa fisica, il meccanismo fisico base che produce l'effetto magnetico. Quindi a livello microscopico, dove troviamo queste correnti elettriche? A livello macroscopico, io ho un magnete fermo, lì correnti non ce ne sono, non ci sono cariche in moto macroscopicamente in un magnete. Ci sono invece cariche in moto microscopicamente, in moto che potrebbe essere un moto ordinato, ma anche un moto micro, un moto di rotazione. Prendiamo una struttura atomica molto semplice, qui c'è un atomo di idrogeno, il nucleo centrale e un elettrone che potrebbe essere ad esempio un elettrone di valenza che gira attorno al nucleo. Oltre a questo moto di rotazione, che quindi produce una corrente, perché è come se fosse una spira percorso da corrente, perché è una carica elettrica in moto chiusa. C'è anche il fatto che la particella in moto, questa qui la vedete, questa giallina, ha anche una rotazione sua. Sicuramente avete sentito parlare magari nel corso di chimica dello spin delle particelle. Spin in inglese significa rotazione. L'elettrone ha un suo spin, cioè è come se, possiamo fare l'analogia, la Terra ruota sia attorno al Sole che attorno all'asse nord-sud. Ecco, lo spin per l'elettrone è l'analogo della rotazione diurna della Terra, anche se dietro un poco mi viene un fulmine che mi incenerisce perché l'analogia in termini di fisica classica è abbastanza azzardata. Comunque è un'immagine che può essere utile a capire. È come se l'elettrone ruotasse attorno a un suo asse. D'accordo? E quindi questo produce, che cosa? Produce un momento magnetico. Abbiamo già visto nel caso dell'aspira qual è il momento magnetico di un'aspira circolare percorso da corrente e l'area per il valore della corrente stessa. Qui avete il valore di momento magnetico in termini di 24 A al metro quadro per diversi in cui per esempio con l'elio non ha momento magnetico proprio. Quindi mentre l'idrogeno si comporta come una piccola calamitina, come una piccola aspira che fosse da corrente, l'idrogeno no e altre sostanze hanno valori diversi. D'accordo? Che cosa succede di questi micro momenti magnetici? Beh, ci sono diverse situazioni possibili. Una è quella in cui i momenti sono del tutto disordinati, che è il caso A. Se io prendo un pezzo di ferro, di metallo, microscopicamente ho sostanze magnetiche, cioè come se avesse delle micro calamitine, la cui orientazione però è casuale, distribuita casualmente nello spazio. Nel caso che io immerga questa sostanza in un campo magnetico esterno, qui vedete la linea di campo B0, allora abbiamo visto che se mette una spira in un campo magnetico, questa subisce un momento torcente, che fa sì che l'asse della spira sia parallelo al campo magnetico esterno. Quindi le calamitine microscopiche all'interno del metallo, della sostanza, tenderanno a orientarsi lungo, in modo tale che il loro momento magnetico sia, è più parallelo al campo esterno. E più il campo esterno è intenso, più questa orientazione è ordinata. Quindi questo equivale a dire se io vedessi in sezione, che ogni sezione piccolina del mio metallo si comporta come una piccola spira, che fa sì che le spira all'interno magari si cancellano, ma rimane una corrente netta, come se percorresse il bordo della sezione, per cui si comporta proprio come il solenoide. Ecco perché vediamo questa analogia tra le linee di campo di elettro calamita e la calamita è naturale. E perché l'elettro calamita è macroscopicamente quello che il magneto è microscopicamente. Ok? È chiaro che a questo punto se c'è questo effetto del campo magnetico esterno contribuisce ad allenare, ad allineare, cioè a rendere coerenti i momenti magnetici microscopici, questi momenti magnetici microscopici a loro volta producono un effetto magnetico, perché abbiamo visto che nella spira, ecco, nella spira percorso da corrente ho campo magnetico dovuto alla spira stessa. Quindi questo campo magnetico prodotto dalla spira, se le spire sono tutte orientate nello stesso modo, darà un contributo al campo magnetico totale in quella regione dello spazio, quindi avrò il campo magnetico B0 esterno, quello inducente, e un campo magnetico B totale dovuto a quello della spira più quello esterno. Il rapporto tra queste due grandezze, in analogia a quello che succedeva per il campo elettrico, prende il nome di permeabilità magnetica relativa del mezzo. Ok? E misura qual è la reazione di quel particolare materiale a un campo magnetico esterno. Tanto più questo Mier sarà grande, tanto più facilmente un campo magnetico esterno riesce ad allineare i momenti magnetici microscopici. E abbiamo tre, essenzialmente, tre diversi comportamenti. Il comportamento diamagnetico, paramagnetico e ferromagnetico. Nel comportamento ferromagnetico, che è tipicamente del ferro, cobalto, nicola, questo tipo di sostanze, Mier riesce ad arrivare a valori anche di diverse migliaia. Ok? Mentre nei diamagnetici è leggermente più piccolo di uno, nei paramagnetici è leggermente più grande di uno. Ok? Indipendentemente da qual è la struttura microscopica del materiale. Ok? Che addirittura arriva anche a 10,5 in alcuni casi. Le calamite sono caratterizzate da questo tipo di sostanze, di comportamento. di, fra un poco mi sa che stiamo al nostro tempo, del comportamento microscopico, quindi dei tre comportamenti, magari parliamo più in dettaglio la volta prossima. Ci sono domande? No? Ok. Riassumo brevemente quello che abbiamo visto oggi. Il messaggio principale era circuitazione del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico, quindi l'integrale di linea del campo magnetico per, lungo un percorso chiuso, vale 0 volte la corrente concatenata al circuito. Come calcolo la corrente concatenata? La corrente concatenata si intende concatenata se il filo percorso della corrente o il percorso della corrente attraversa la superficie che ha come bordo il percorso di integrazione. Con che segno? Coerentemente è il segno della mano destra. Cioè, si metto le dita della mano destra lungo il verso di percorrenza del circuito, il pollice mi dice qual è il verso positivo. Cioè, cosa conta come più e di conseguenza cosa conta come meno. Ok? Cosa serve a questo? Ci serve ad applicarlo in diverse situazioni, tra virgolette, geometricamente semplici per determinare qual è la struttura del campo magnetico in quel caso. Tipicamente abbiamo visto il solenoide e il toro. Ok, per oggi direi che può bastare. Grazie. Grazie.